Riqualificazione della via Borgovico-Vecchia, ristrutturazione degli immobili in situazioni di degrado, restyling dei viali alberati della città, ma anche un nuovo piano tariffario per Villa Olmo e lo studio di fattibilità di un salone nautico lacustre. Idee e progetti riassunti nel DUP, il documento unico di programmazione del Comune di Cuomo relativo al triennio 2020-2022. Il testo è stato approvato ieri con il voto unanime della maggioranza a Palazzo Cernezzi, Forza Italia compresa, e con il voto contrario, anche in questo caso compatto, delle opposizioni critiche sul contenuto del piano. È poco più che ordinaria amministrazione e in sintesi l'attacco delle minoranze in Consiglio Comunale, critiche che l'assessore al bilancio Adriano Caldara respinge al mittente. Intanto con questa approvazione abbiamo riportato il documento nella corretta tempistica, visto che il DUP precedente era stato votato in forte ritardo, dice l'esponente della Giunta. Inoltre è un testo che va di pari passo con il piano di assunzioni di personale. Nel complesso sono interventi importanti che si propongono come obiettivo il miglioramento della città. Il DUP votato ieri sera porterà l'attuale maggioranza fino al termine del mandato. Abbiamo migliorato il documento precedente facendo un passo avanti, dice Caldara. Ci sono progetti significativi per i vari settori. Penso ad esempio alla riqualificazione di via Borgovico-Vecchia, in linea con la nuova vocazione commerciale e turistica, con una riduzione della velocità dei veicoli e più spazio per i pedoni. Per il settore turismo, tra le novità l'idea di un salone della nautica lacustre e la nuova gestione di Villa Olmo, con la definizione del piano tariffario. Nel bilancio andremo a trovare risorse e valori di spesa per i diversi progetti, conclude Caldara. Il DUP va di pari passo con il documento economico.